Cosa c'è di più piacevole che con il proprio figlio o nipotino passare qualche attimo della giornata a dar da mangiare ai pennuti ospiti del canale Albani, ormai ripopolato di diverse specie animali. Certo i bambini sgranano gli occhi dalla gioia nel vedere che le loro premure alimentari sono così gradite ai loro amichetti, ma anche gli adulti sgranano gli occhi, ma non dalla gioia, dal ribrezzo. Oltre ai pennuti ci sono i topi. I topi, sì, continuo, ci vedono le pentegane, quelle grosse, fanno un po' senso. Eh beh, certamente non sono salubri comunque, sono le malattie, certo. Sì, sì, l'ho visto, qualche volta è capitato, non bisogna dire il falso, però tanto purtroppo sono zone che ci sono. Io sono del porto, sono marinaio, perciò ci sono anche laggiù nel porto, questi girano qui un po'. Un po' sì, non sono un bel vedere. Ah no, no, non sono un bel vedere, anzi. Vi è capitato di vedere qualche topo? Qualche topo sì, ogni tanto, non sempre, però ogni tanto se ne vedono, ma tanto purtroppo c'è il mangiare, quindi fiume, acqua. E quindi è... È un po' diciamo una cosa matematica. Grossi anche? No, grossi non ne ho visti, più tutti piccoli che grossi, eccone uno. E ce ne erano tre. Grosse? Beh, abbastanza. Viene spesso qua lei? Tutti i giorni, guarda. Tutti i giorni. E ci sono tutti i giorni? No, no, non l'avevo mai visti. Ieri uno è uscito fuori da là, piccolino, e uno era qua, più grande, grosso. Proprio in corrispondenza del punto in cui la gioia dei bambini incontra l'appetito dei palmipedi, i topi hanno fatto una tana e fanno capolino a turno per usufruire anche loro della manna dal cielo. Sono di diverse dimensioni, alcuni veramente grossi, ma non tutti ne sono spaventati. E i topi invece, i topi qui purtroppo ci sono? Sì, le pantegane. Lei le vede spesso? Io abito qua, abito. E quindi? C'è, c'è, ma comunque è normale, dai, è normale. Era anche a peggio prima. Adesso non è un po' più pulibile, non è? Prima era anche peggio? Era anche peggio, sì. Adesso c'è la verità, ragazzi, perché la gemma chi perla perché c'è la lingua, ma prima era peggio. Voi che abitate qui nel posto? Non è che non ci danno fastidio, le pantegane di sé non vengono in casa, niente. Stanno qui, c'è una loro zona, stanno qui, tranquilli, sì e basta. Salmonella, colera, leptospirosi, tifomurino. Sono solo alcune delle malattie che possono essere trasmesse dai topi agli esseri umani, generalmente attraverso gli escrementi. Malattie pericolose che minacciano la salute della famiglia e degli animali domestici. motivo più che sufficiente per agire rapidamente e prevenirne la diffusione. La situazione dei passeggi di tutto il canale è una situazione abbastanza particolare, nel senso che l'area di proprietà privata, di Enel, l'area dei passeggi è parzialmente aperta al pubblico, ovvero sia aperta al pubblico la parte contenuta fra le due reti di ricensione, quindi quella limitrofa al canale. La parte delle problematiche in relazione allo sviluppo di ratti si sviluppa nella parte interna del canale. Questo è facile e abbastanza intuitivo capire il perché, perché purtroppo a torto ragione ormai c'è l'abitudine di dare da mangiare costantemente agli animali. Chiaramente i ratti trovano da mangiare case e bottega, nel senso che hanno le tane lì, e trovano da mangiare facendo due metri e conseguentemente questo aumenta la portanza del sistema. Conseguentemente lì l'eradicazione del problema è molto complesso. Di abitudine tutti gli anni viene data comunicazione all'AS, non appena arrivano le prime segnalazioni da parte dei cittadini della presenza dei ratti, di provvedere alla manutenzione della parte interna del canale. Normalmente l'AS è abbastanza solerta e nel giro di qualche giorno provvede agli sfalci di competenza, qualora già abbia non abbia provveduto, alla disinfestazione contro le zanzare e anche alla posizione di apposite esche topicida in modo da cercare di contenere quanto più possibile lo sviluppo di ratti e di specie affine. Questo viene fatto tutti gli anni in segno di conseguenza. Nella zona riservata all'Enel voi avete fatto la segnalazione all'Enel? Abbiamo segnalato all'Enel, di solito vengono fatte tutto quanto arrivano le prime segnalazioni da parte dei cittadini e solitamente l'Enel ci avvisa una volta che avvia le procedure.